Buongiorno ragazzi sono Gilberto e sono qui oggi a portarvi il video in cui vi mostro quelli che sono i nuovi prezzi per gli abbonamenti e anche i nuovi vantaggi che ho inserito appunto nei vari livelli parto subito perché è un video breve il primo livello di abbonamento è il livello 1 che ha un prezzo di 0,99€ e di fatto non ha nessun vantaggio è semplicemente un livello che permette a voi di ringraziarmi per il lavoro che faccio cioè dei contenuti totalmente gratuiti che ricevete tutte le settimane se avete piacere di supportare il canale questo è un livello dedicato a voi costa un euro al mese sostanzialmente è un metodo che permette a me di continuare a lavorare ovviamente cercando di incassare qualcosina se non sapete quanto guadagno andatevi a vedere uno dei video precedenti dove vi spiego quanto guadagno da youtube e spiego anche perché ho aperto gli abbonamenti sostanzialmente è perché guadagno troppo poco secondo il mio rapporto tempo speso denaro guadagnato che è bassissimo per quanto riguarda youtube quindi ho creato questo livello qua sostanzialmente per questo motivo qua dal livello 2 in poi otterrete tutti i vantaggi che io reputo veramente molto buoni partiamo subito dal livello 2 che prevede questi seguenti vantaggi avrete accesso al mio portafoglio 24 ore al giorno 7 giorni su 7 semplicemente come potete vedere se volete avere un quadro generale sul mio portafoglio andatevi a vedere il video in cui lo spiego ma sostanzialmente avrete accesso a questo portafoglio qua 24 ore al giorno 7 giorni su 7 semplicemente perché io condividerò questo file con voi e quindi avrete accesso a questo portafoglio qua ovviamente non potrete modificarlo, potete solo vedere andare a vedere quali azioni vi danno dividendi quale azioni mi hanno preso il più guadagno sostanzialmente potete vedere queste cose qua ovviamente io questo file qua lo aggiorno ogni volta che compro le azioni e quindi è un metodo che avete voi per sostanzialmente continuare a guardarmi anche perché i video giornalmente sul mio portafoglio li faccio una volta ogni 3 mesi se all'interno di questi 3 mesi qua avete il piacere di vedere che azioni possego quali vendo, quali non vendo potete farlo tramite il livello 2 di abbonamento seconda cosa che potete fare con il livello 2 è avere accesso a questo file qua che è il file con cui ho valuto le azioni semplicemente è un file in cui voi inserendo dei dati ad esempio inseriamo il ticker Apple vi porterà in automatico questi dati qua voi inserirete ricavi, utili, free cash flow, APS, equity PR ratio e il balance sheet e poi in automatico vi calcolerà secondo me quello che è un valore buono di acquisto quindi avete questo anche vantaggio qua oltre a questi due avete anche la possibilità di farmi qualsiasi domanda che vogliate sulla mail che tra l'altro ovviamente nel momento in cui fate l'abbonamento scrivetemi per mail così vi lascio tutti i vantaggi detto questo avete la possibilità con il livello 2 di farmi qualsiasi tipo di domanda io appena ho tempo, appena finisco di lavorare vi rispondo sempre molto volentieri ovviamente a partire dal livello 2 in poi otterrete anche tutti i vantaggi oltre ai vantaggi di quel livello lì otterrete anche i vantaggi del livello precedente ad esempio al livello 3 avrete in più oltre a tutti questi vantaggi qua del livello 2 quindi l'accesso al portafoglio investimenti al file excel per calcolare il valore dell'azione e alla possibilità di iscrivermi sulla mail avrete anche anticipazioni sui titoli che compro ogni lunedì perché non so se lo sapete ma io ogni lunedì faccio un piano di accumulo comprando sostanzialmente 10 azioni quelle dicezioni lì io le mando sempre per email agli abbonati dal livello 3 in su ho già creato un mini gruppo su gmail in cui nel momento in cui creo la mail la invio a tutti gli abbonati così nel momento in cui io compro qualcosa lo sapete anche voi e non è perché così mi possiate copiare è semplicemente perché tanta gente magari vuole avere le notizie un pello prima io non dico mai su youtube che azioni compro lo dico solo una volta al mese in cui vi dico tre azioni che sostanzialmente comprerei nel mese successivo quindi se avete piacere di ricevere queste notizie qua con più frequenza potete fare con l'abbonamento livello 3 potete ricevere tutte queste azioni qua sulla mail ogni lunedì io verso le 3.30, 4, 5 invio la mail oltre a questo vantaggio qua e a tutti gli altri avete anche la possibilità di avere una revisione gratuita del portafoglio sostanzialmente voi mi mandate il vostro portafoglio io vi dico sostanzialmente quale azioni mi piacciono quali non mi piacciono se è troppo poco diversificato quelle cose lì ci tengo a precisare sempre che io non sono consulente finanziario però se avete piacere di avere un consiglio da me che non è un consiglio finanziario ma è semplicemente un consiglio da persona esterna e da studente universitario di economia potete farlo ovviamente non è obbligatorio avete la possibilità di riscattare questo vantaggio qua se avete piacere se no nessun problema oltre a questi qua avrete anche la possibilità di ricevere questo file qua ovvero è semplicemente il mio portafoglio senza le mie azioni in cui voi semplicemente andrete a inserire le vostre azioni ad esempio Apple sapete che avete un prezzo di entrata a 90 la quantità ne avete 3 e il dividendo di Apple magari è 1,5 lui in automatico vi calcola tutto poi ovviamente in base ai dati che inserite qua vi creerà le percentuali del portafoglio e anche dei dividendo secondo me è un bel tracking portafoglio e avete la possibilità di riscattare appunto con questo livello di abbonamento qua oltre a questo avrete anche la possibilità a partire dal livello 3 in su di ricevere il mio numero di Whatsapp nel momento in cui avete qualsiasi domanda me la fate su Whatsapp che è molto più veloce rispetto a Gmail anche perché io posso farvi gli audio e sostanzialmente rispondo sempre così potete appunto farlo tramite Whatsapp io vi darò il mio numero ovviamente nel momento in cui inizierete a sfammarmi richiamatevi così ovviamente partirà il blocco ve lo dico già perché è un numero personale quindi scrivetemi solo cose strettamente necessarie se ovvio mi chiamate alle 3 di notte ragazzi miei sono obbligato a bloccarvi non è che posso fare altrimenti è una forma di tutela ora andiamo nei abbonamenti un po' più caldi che sono quello da partire da 14,99 euro che prevede oltre a tutti questi vantaggi qua questo e questo avrete anche la possibilità di accedere a questo file excel qua che secondo me è veramente una chicca assurda subito l'avevo messo a livello 5 però poi ho pensato che forse sarebbe più carino che fosse più accessibile un po' a tutti quindi ho abbassato il prezzo da 24,99 a 14,99 e ho aggiunto dei vantaggi appunto a questo livello qua avrete la possibilità tramite questo file excel qua di vedere ogni giorno e aggiornato al minuto questo file excel qua vi aggiorna in base a quelle azioni che secondo me hanno un margine di sicurezza più alto ad esempio Alibaba questo importo qua è tirato fuori in base all'analisi che ho fatto ma l'analisi si aggiorna sempre perché magari escono le notizie sugli utili e sale il prezzo scende il prezzo determinate cose che accadono all'azione e in base a tutte le cose che accadono si aggiorna il margine di sicurezza ed è un file che secondo me è da paura oltre a questo ho anche aggiunto e questo qua lo aggiorno sempre voi avrete accesso appunto in modo tale che si aggiorna in automatico ho aggiunto anche questo file qua dove sostanzialmente guardo le azioni che secondo me hanno più stime di crescita e questo file qua si aggiorna appunto come vi dico ogni giorno e ovviamente non avrete la possibilità di scaricarlo ma avrete la possibilità e nemmeno di modificarlo però avrete la possibilità di seguirlo in cloud quindi secondo me è un valore aggiuntissimo al vostro portafoglio di investimento e secondo me vale tantissimo la pena farlo oltre a questo livello qua ho creato poi un livello che è un po' per le persone magari hanno più intenzione di iniziare adesso un piano di accumulo allora oltre a tutti questi vantaggi qua do la possibilità a livello 5 di ricevere in anteprima due portfogli uno contenente 50 azioni super growth che tendenzialmente potrebbero servire se per vostra scelta sotto vostre valutazioni decidete di fare un piano di accumulo queste qua sono 50 azioni che secondo me nel lungo periodo possono tranquillamente performare molto ma deve essere una vostra scelta e una vostra valutazione ragazzi mei io semplicemente vi do lo strumento che sono 50 azioni che secondo me possono crescere davvero tantissimo nel lungo termine stessa cosa allo stesso prezzo avete anche la possibilità di ricevere un portafoglio con 50 azioni dividend ovvero 50 azioni che rilasciano dividendi perché magari alcune persone hanno il piacere di avere un portafoglio meno growth ma più dividend quindi ho anche questa possibilità qua detto questo se avete piacere di fare l'abbonamento potete farlo tramite il primo link in iscrizione oppure col tasto abbonati di fianco al tasto iscriviti quindi se ripeto avete piacere di supportare il canale potete farlo nel primo link in iscrizione detto questo ragazzi io spero che questo video qua vi sia piaciuto lasciate un bel like un commento e niente ragazzi becchiamo al prossimo video